Ciao, sono Samantha e ti do il benvenuto in questo breve video dall'Integre House di Castelgandolfo. Puoi subito considerarmi a tua disposizione per provare a conoscere gli straordinari ed esclusivi trattamenti personalizzati, bellezze e benessere integre. Contattami telefonicamente attraverso il numero che trovi in questo sito e se sei una collega, fantastico! Chiedi al consulente commerciale Integre come incontrarci presso la mia Integre House o in uno dei nostri eventi formativi. Grazie per l'ascolto e a presto!